Salve a tutti, in questo video continuo la mia guida su Emacs trattando di tre concetti fondamentali che sono frames, windows e buffers. Come al solito spero che il video sia interessante e se avete qualche feedback lasciatelo pure nei commenti. Quindi per iniziare, come al solito, abbiamo la nostra table of contents, appunto tratterò frames, windows e buffers, tre concetti che sono fondamentali. Ora cerchiamo di relazionare questo video rispetto agli altri. Ho fatto già tre video dettagliati, di cui questo è il terzo. Sul primo, keybind structure, ho trattato un po' in generale il mondo di Emacs, dando una lista di keybinds più utilizzati. Dopodiché ho fatto un video specifico sul cursor movement, che ho fatto vedere i movimenti basi avanzati. In questo video invece tratterò in modo specializzato il concetto di frames, windows e buffers, così che con questi tre video in realtà si dovrebbe già avere una conoscenza molto solida per utilizzare Emacs e quello che Emacs può offrire ad un utente iniziale. Quindi senza entrare troppo in configurazioni, ma se uno sa come utilizzare i keybinds, come muoversi e come utilizzare frames, windows e buffers, è già un buon punto di partenza, un ottimo punto di partenza. Quindi iniziamo con il primo concetto, il concetto di frame. Che cos'è un frame? Nel linguaggio di Emacs, per frame si intende la finestra GUI, la finestra grafica, che contiene il programma, che contiene Emacs, in un tipico ambiente grafico come il server X, X11. Quindi qua è uno screen che fa vedere due frame, il frame 1 a sinistra, il frame 2 a destra. Ora, come faccio ad aprire un frame? Semplicemente io apro il mio terminale, scrivo Emacs e lui mi apre un frame. Questo è un frame. Se io adesso scrivo un altro Emacs, questo è un altro frame. Ora qui è un errore perché stavo, diciamo, debuggando una cosa. Ora lo eliminiamo e ora diciamo che cosa stavamo facendo. Ora, continuando. È possibile modificare le dimensioni del primo frame aperto con il seguente codice Lisp. Ora, come utilizziamo questo codice e che cosa fa? Questo codice esegui la funzione setQ e la funzione setQ che cosa fa? Prende, assegna al primo argomento il valore del secondo argomento. Quindi qui notiamo la struttura di questa espressione perché questa è un'espressione tipica di Lisp. Cioè questa è la struttura, praticamente, in questa struttura c'è molto Lisp e questo è molto importante da analizzare. Ora, come la leggiamo? Bene, noi abbiamo una parentesi che contiene tante altre parentesi, ma qual è il senso? Il senso è che questa parentesi esterna eseguirà la funzione setQ, quindi il primo elemento della parentesi, con argomenti, il secondo elemento della parentesi e il terzo elemento della parentesi, che è tutto questo. È tutta questa roba che la possiamo anche vedere in questo modo più orizzontale, in cui abbiamo left, abbiamo top, left, width e height. Quindi lui praticamente assegna alla variabile initial frame a list questo valore, che è una lista a sua volta. Quindi assegna a questa cosa. Ora, questo qui che rappresenta? Semplicemente noi abbiamo top e left, che sono le coordinate a partire dal punto centrale, che tipicamente negli ambienti grafici è sempre quello in alto a sinistra. Quindi da questo abbiamo top, left e poi abbiamo width e height, che è larghezza e altezza rispettivamente. Quindi se io voglio cambiare questi parametri, basta che modifico qui il numero e metto dei numeri che mi piacciono. Ora, se io ad esempio ho questo tipo di configurazione, quando io lo vado ad attivare, vediamo lui come me lo apre, me lo apre così. Se io ad esempio voglio aumentare per esempio la larghezza, oppure l'altezza perché mi sembra abbastanza piccolo, posso aumentare a 50. Ho essenzialmente cambiato qui height al posto di avere 20, ho messo 50. Lo chiudo, lo faccio ripartire e lui me lo apre un po' più grande, anzi è talmente grande che in realtà mi va proprio su tutto lo schermo. E quindi posso modificare in questo modo. Ora, questo non è molto utile, io personalmente quella di default a me mi pare diciamo più che adeguata, ma ho voluto mostrare un po' di codice lisp. Quindi continuando, ci sono alcuni keybinds per gestire i frame, ma sinceramente tra tutti i keybinds di IMAX questi io non li consiglio di imparare, è solamente per curiosità se vogliamo. Ora, questi come funzionano? Cioè l'idea è che io a partire da un frame posso creare un altro frame e posso muovermi tra frame diversi. Ora io ho un frame, se io faccio ctrl x e scrivo make, anzi ho fatto alt x, mx, ho scritto make frame, perché ricordiamo che in IMAX tutti i keybinds sono associati a dei comandi, alcuni comandi potrebbero non essere associati ad alcun keybind. Quindi il comando è il modo lento per eseguire, diciamo, una funzione elisp, il keybind in modo veloce. Però supponiamo di eseguire il comando make frame, se io faccio make frame, lui mi crea un altro frame. Dopodiché una volta che ho creato un altro frame, posso eseguire la funzione alt x other frame per spostarmi tra i vari frame. Quindi qua sto frame 1, qua posso fare edit in test, posso fare other frame, poi sto in frame 2, eccetera. Ora questo posso pure farlo con ctrl x 5o, quindi io faccio ctrl x 5o e mi sposto tra frame, oppure ctrl x 5 2 e creo un nuovo frame. Quindi adesso tipo ho creato 3 frame e poi con ctrl x 5o, ctrl x 5o, ctrl x 5o mi sposto tra i frame. Questo però è poco utile, quindi io non consiglio di imparare questi, ma li ho potuto dimensionare così per curiosità appunto. Quindi questo è per quanto riguarda i frame. Ora continuando, una parte molto interessante e molto più interessante dei frame sono le finestre, le windows. Per IMAX una window, una finestra, è una porzione dello schermo visibile. Quindi noi abbiamo detto il frame è tutta l'interfaccia grafica, è tutta la parte grafica di IMAX. Bene, questa parte grafica di IMAX può essere spezzata in più finestre, in più windows. Ad esempio questo frame è diviso in tre windows. Qui abbiamo window 1 a sinistra e poi window 2, questa in alto a destra e questa window 3 in basso a destra. Le windows ovviamente ci permettono di avere una flessibilità maggiore nel nostro workflow perché possiamo avere un file da una parte, un altro file dall'altro e via dicendo. Ora ciascuna finestra mostra una porzione di un buffer. Dei buffer ne riparleremo in futuro in questo video. Quindi per adesso consideriamo un buffer come il contenitore, il contenuto che vogliamo editare, su cui vogliamo lavorare. Oltre al contenuto del buffer, su cui vogliamo lavorare e che è tipicamente del testo ma può essere anche delle immagini, con IMAX infatti possiamo anche leggere i pdf. Bene, a ciascuna finestra sono associate le seguenti informazioni. Informazioni relative alla modline, informazioni relative alle modalità in cui stiamo editando e la posizione del point nel buffer. Ora tutto questo può essere confuso, cerchiamo di capirci. Allora, il contenuto del buffer è semplicemente ciò che vediamo, è il testo. Quindi ho qui aperto tre buffer, qui il contenuto del buffer, questo qui a sinistra, è window 1, quindi questi caratteri. Poi abbiamo altri due buffer. Ora, la modline è appunto questa qui. Sono queste tre righe, questa qui per window 1, questa qui per window 2 e questa qui per window 3. Bene, nella modline ci sono varie informazioni relative a ciascun buffer aperto, che sono il nome del buffer e la major mode su cui stiamo lavorando per editare quel file. Ora, la major mode l'avevo menzionata nel video su keybinds in generale, ed è praticamente la modalità in cui IMAX sta lavorando in quel momento e diverse major mode possono, diciamo, hanno un editing di testo diverso. Per esempio in org mode io ho tutte le outline belle che si modificano, eccetera, mentre sto programmando non ho quel tipo di, diciamo, interazione dinamica col testo. Bene, ad esempio in questo caso io ho nome buffer window 1, quindi il nome del buffer a sinistra è window 1, il nome invece di questo buffer è window 2, quello a destra in alto, e il nome del buffer in basso a destra è window 3. Dopodiché, per esempio, altre informazioni. Ora, questo quadratino bianco, che cos'è? È la posizione del punto. Ora, il punto è un argomento che ho trattato nel video precedente, nell'ultimo video della serie, quindi se non avete visto ve lo consiglio, almeno i primi minuti in cui parlo di punto e di cursore. Il punto, essenzialmente, è la posizione in cui il testo sarà inserito all'interno di questo, del buffer 2. Perché quando noi cambiamo buffer, poi vedremo come fare, ma noi possiamo editare qui. Poi dico, ok, adesso devo editare l'altro file, mi sposto nel buff in quest'altra finestra, e comincio a editare quest'altra finestra. Quando ritorno nella finestra precedente, Emacs si ricorda dove ero e si ricorda dove dovrò inserire il prossimo carattere. Ora, altre informazioni della modline sono, ad esempio, lo zoom. Qua c'è scritto più 3 perché ho zoomato 3 volte. Ci sono questi due asterischi per dire, guarda, il buffer non è stato salvato. È stato modificato, ma non è stato salvato. Poi qui, per esempio, questa U determina la codifica utilizzata. Con U si intende UTF-8 Unix, ce ne sono altre. E quindi questo è più o meno queste informazioni per ogni Windows. Quindi abbiamo finestra 1, finestra 2, finestra 3. Ciascuna ha la propria modline e queste varie informazioni. Ora, nella pratica, appunto, io semplicemente faccio partire il mio Emacs. E, ad esempio, questa è la finestra iniziale. Inizialmente ho una sola finestra che contiene queste informazioni. Tipo, questo U è sempre per la codifica. Questi due simboli percentuali sono per dire che questo file è read-only. Poi ci arriveremo, è un buffer read-only e che non è stato modificato. Questo è il nome del buffer. E qua ci sta la fundamental mode, cioè la modalità. Se adesso apro un file di testo, ad esempio, con ctrl-x, ctrl-f. Io apro un file di testo e lui cambia questa mod, l'animate-test.dxt. Ora, all'interno dello stesso file io posso aumentare il numero di finestre. Posso splittare lo schermo. E poi vedremo come si fa. Posso splittare lo schermo adesso a due finestre. E entrambe però sono aperte sullo stesso buffer. E quindi, diciamo, oppure le posso aprire su buffer diversi. Io ho comunque due finestre, quindi ho splittato il frame in due finestre. Ora, continuando. Quindi, in generale, è possibile avere più Windows contenenti lo stesso buffer. Cioè, vuol dire, possiamo editare lo stesso file, ma da due finestre diverse. E quindi, in una, magari possiamo vedere l'inizio del file, tipo questa funzione main. E nell'altra, possiamo vedere la fine del file. Così che abbiamo più visioni sullo stesso file. E questo è molto utile quando abbiamo file molto grossi. E vogliamo capire, ok, ma questo codice, che cosa fa? Questo testo, l'avevo scritto prima oppure no? Possiamo splittare la window, ma lavorare sullo stesso file. Ed è quello che ho fatto prima. Prima io avevo aperto questo test.dxt. Prima io avevo aperto due Windows, ho splittato la mia Windows in modo, con questo splitta. E, quando io scrivo su questo buffer in alto, anche questo in basso viene modificato. Perché il buffer sottostante è lo stesso. Cioè, ho due finestre, ma entrambe sono aperte sullo stesso buffer. Se invece, ad esempio, splitto di nuovo la finestra in alto, in due, ma questa la apro su un diverso buffer, A questo punto le modifiche che faccio su questo nuovo, su questa nuova finestra, che è aperta su un nuovo buffer, non vengono riflesse negli altri due. Ma se io qui faccio una modifica, verrà riflesse in basso. Perché queste due finestre, questa in alto a sinistra e questa in basso, sono sincronizzate perché fanno riferimento allo stesso buffer. E quindi, in generale, possiamo avere questo. Ora, in ogni momento, è presente un solo cursore, che rappresenta la finestra attiva. Nuovamente, il concetto di cursore l'ho trattato nel video precedente, ma il cursore è il punto in cui ci troviamo e determina la finestra attiva. In questo screen, ad esempio, io ho tre finestre. Finestre in alto, finestre a sinistra, in basso a sinistra, finestre in basso a destra. E ho una sola finestra attiva. E qual è tra queste? Ebbene, è quella in alto, perché è quella in cui ho questo cursore, questo rettangolino oscuro, che lampeggia, ma ho fatto lo screen quindi è fisso, mentre negli altri possiamo vedere che il point sta qui. Il point sta qui dopo il 2 e il point sta qui. Quindi questo vuol dire che quando io andrò a cambiare finestra, il cursore si muoverà relativamente al point. Quindi, in questo caso, per esempio, si muoverà qui, in questo caso si muoverà qui sulla D. E quindi, diciamo, il cursore si trova nella finestra in alto. Ora, quindi in questo caso, per esempio, in questo buffer che ho aperto, in questo frame di Emacs, ho tre finestre. Il buffer si trova nella finestra in alto a sinistra. Mentre se io clicco su quest'altra, il cursore si trova nella finestra in alto a destra. Oppure, se io cambio, il cursore si trova nella finestra in alto in basso. Nella finestra in basso. E quindi questo è, diciamo, per quanto riguarda il concetto di cursore e di finestra attiva. Per quanto riguarda i keybinds, per gestire queste finestre, sono i seguenti più importanti. Andiamogli a leggere velocemente. Ctrl X2, Split Window Vertically. Che cosa fa questo keybind? Bene, questo keybind ci splitta la finestra in modo verticale, cioè lungo quest'asse, lungo l'asse verticale. Quindi vuol dire che qui ci creerà uno split e ci dividerà questo window in due. Per esempio, se io faccio Ctrl X2, lui me lo splitta a partire da questa linea verticale. A partire da questo punto, diciamo, dell'altezza del mio window, me lo splitta. Qui adesso posso avere qui uno in alto e poi posso avere window 1 e qua in basso window 2. Quindi, ricapitolando, se io voglio effettuare uno split di questo tipo, faccio Ctrl X2. E quindi Ctrl X2 prende la verticale e qua me lo splitta in due finestre. Mentre Ctrl X3 è, diciamo, nella direzione opposta. Cioè, se io faccio Ctrl X3, me lo splitta in quest'altro modo. Cioè, da questa linea orizzontale lui crea uno splitta qui. E con questi solamente due keybinds io posso ottenere dei layout super complessi. Perché posso fare, prima me lo splitta in questo modo, poi me lo splitta quest'altra me lo splitta, quest'altra me lo splitta. Insomma, posso fare quello che, diciamo, mi interessa. E quindi posso creare layout arbitrariamente complessi. Ricapitolando come abbiamo Ctrl X2, Ctrl X3. Ctrl X2 per avere questo tipo di splitta, Ctrl X3 per avere quest'altro tipo di splitta. Una volta che ho splittato la finestra, devo ovviamente switchare. Devo essere in grado di switchare da una finestra all'altra. Come faccio a fare questo? C'è un modo principale che è Ctrl X O. Ctrl X O. Ora, con Ctrl X O, infatti, sta per Other Window. Quindi, mentre Ctrl X2 esegui il comando Split Window Vertically, Ctrl X3 esegui il comando Split Window Horizontally, Ctrl X O esegui il comando Other Window. Vai nell'altra finestra, cioè, vai, cambiami finestra. Quindi, per esempio, sto in una sola finestra, dopo di che la splitta, e devo dire, ok, adesso devo editare nell'altra finestra. Dopodiché che questi siano su due buffri diversi, io qui, diciamo, sto editando su questa finestra in basso, adesso devo editare sulla finestra in alto, Ctrl X O. Quindi faccio, Ctrl X O, edito sulla finestra in alto. Poi faccio, Ctrl X O, edito sulla finestra in basso, Ctrl X O, quindi, con Ctrl X O io mi muovo. Ora, però, se invece ho più finestre, se invece ho più finestre, Ctrl X O essenzialmente esegue l'ordine di lettura, diciamo, occidentale. Ciò che vuol dire, va da sinistra a destra e dall'alto al basso. Quindi in questo caso lui, con Ctrl X O, si muoverà qui e poi qui. Poi di nuovo andare in alto, qui e qui. Se adesso ho questo tipo di cosa, farà essenzialmente qui, qui, qui e qui. Ora, quando io dico qui, è questo cursore che si muove. Andiamo a vedere. Quindi prima sta qui. Dopodiché lui va, appunto, come ho detto, da sinistra a destra, quindi da sinistra a destra. Dopodiché, quando lui è andato al limite destro, diciamo, fine, è arrivato alla fine rispetto a destra, va in basso alla più a sinistra. Quindi andrà qui, in questo caso. E continua in questo caso. Se io qui ho questo tipo di layout, lui che farà? Prima andrà a questa, poi andrà a questa, poi andrà a questa, poi andrà a questa, poi andrà a questa e poi andrà a questa. Infatti, se noi lo facciamo, esegue essenzialmente quest'ordine. E quindi questo è con Other Window. Dopodiché abbiamo Ctrl X 0 e Ctrl X 1. Quindi questi due sono simili, ma uno è Ctrl X 0 e uno è Ctrl X 0. E, perché? Con Ctrl X 2 e Ctrl X 3 io posso creare più finestre. Ma come le cancello? Bene, ci sono due approcci per cancellare una finestra. O voglio solamente cancellare quella finestra e voglio lasciare tutte le altre, oppure voglio cancellare tutte le altre e lasciare solo la finestra in cui mi trovo. Perché ricordiamo che abbiamo già detto che ad ogni momento esiste una sola finestra attiva, e questa è la finestra del cursore. Bene, quando noi facciamo Delete Window, stiamo eliminando la finestra attiva. Cioè stiamo eliminando la finestra in cui in quel momento si trova il cursore. Per esempio, in questo momento il cursore si trova nella finestra in basso a destra. Se io faccio Ctrl X 0, sto rimuovendo esattamente quella. Ho rimosso quella. Se invece faccio, sempre a partire da questa, se io invece faccio Ctrl X 1, sto eliminando tutte le altre. Adesso se io qui scrivo, ora, qui è difficile da vedere, però faremo così. Quindi adesso ho queste altre due finestre. Io adesso qua sto facendo, metto un po' di testo. Prova, anzi scrivo, prova, prova. E poi faccio Ctrl X 1. Quando ho fatto Ctrl X 1, ho tolto tutte le altre finestre, ed adesso c'è solamente quella che prima stava in basso a destra. Quindi, ricapitolando, io avevo una situazione del genere, in cui avevo qui, window 2, qui, window 2. Da qui posso fare due cose. Faccio Ctrl X 0, mi elimina solo quella attiva. Se io invece faccio Ctrl X 1, mi rimuovi tutte le altre. E quindi questi sono i keybinds super super importanti. Dopodiché, i keybinds invece un po' meno utili, ci sono i seguenti, che sono mx delete windows on. Questo elimina tutte le finestre aperte su uno specifico buffer. Dopodiché abbiamo Ctrl X caret, che è questo simboletto, e enlarge window. Poi abbiamo shrink window, che non è invece bindata a nessun keybind, e poi abbiamo balance window. Ora, delete windows on. Supponiamo che io abbia più finestre aperte sullo stesso buffer. Tipo in questo caso ho tre finestre, ma questa, quella in alto, e quella in basso a sinistra, sono entrambe aperte sullo stesso buffer test1.txt. Io faccio adesso Alt X, mx, e poi scrivo delete windows on. Faccio delete windows on, e lui mi dice, ok, quale finestra vuoi eliminare? Dimmi il buffer, e io ti eliminerò tutte le finestre aperte su quel buffer. Io qui scrivo test1.txt, e lui mi eliminerà quella in alto, e quella in basso a sinistra. E infatti mi è rimasta solamente quest'altra. Ora qui in realtà è scorretta questo keybinds, perché mx non è un keybind, mi sono sbagliato. Qui il keybinds non c'è in realtà. Anzi, andiamo da vedere se c'è o non c'è. Come ho già fatto vedere in un video precedente, se noi abbiamo un comando e vogliamo capire qual è il keybind associato a quel comando, faccio ctrl hf, per dire describe function, delete windows on, per dire descrivi la funzione delete windows on, e lui descrive la funzione e non mi dice nessun keybind, e quindi vuol dire che non c'è nessun keybind per questa funzione. E quindi qui è sbagliato, qui il keybinds non c'è. Dopodiché enlarge window. Ora supponiamo che io ho una finestra, però è troppo piccola, la voglio più grande. Tipo qua ho, per esempio, test 1. Quindi adesso sto nella finestra in basso qui. Però la voglio allargare, la voglio rendere più grande. Allora che faccio? Faccio ctrl x caret. Ctrl x caret. E con ctrl x caret, ripetuto, io la riesco ad allargare quanto voglio. Quindi io lo posso fare col mouse. Io tipicamente lo faccio col mouse, perché tanto lo faccio una volta solo e bassa. Però se lo devo fare in modo con un keybind, o faccio ctrl x caret, che sarebbe ctrl x più questo simbolo, che sarebbe tipo l'esponente. Oppure faccio alt x enlarge, in minuscolo, enlarge window. Oppure analogamente posso fare shrink window. Posso fare shrink window. Oppure posso, se ho solamente due finestre, ad esempio potrei, per andare a diminuire la finestra in basso, potrei cambiare finestra con ctrl x o, e poi fare enlarge dell'altra finestra. E ovviamente, dato che ho solamente due finestre, ingrandire una automaticamente fa decrementare l'altra. E poi invece ho quest'altro che è balance window. E lo posso utilizzare nel caso in cui ho delle finestre che sono un po' sbilanciate. Che sono un po' sbilanciate, io posso fare ctrl x più. E lui me le bilancia in modo di avere tutti i split equi. Cioè che vuol dire? Vuol dire che, supponiamo che sto così, e poi questo lo metto tipo super basso, faccio ctrl x più, e lui me lo mette come se avessi fatto uno split equo. Cioè come se mi avesse diviso lo schermo esattamente, a metà tra una finestra e l'altra. E questi sono tutti i keybinds fondamentali per le finestre. Quindi diciamo, questo spero che sia chiaro, le cose più importanti secondo me sono questi. Sono questi e sono tutti molto importanti. Sia ctrl x2, che ctrl x3, che ctrl xo, che ctrl x0, che ctrl x1. Quindi questi sono da imparare bene. E quindi questo chiude per quanto riguarda le Windows. Infine trattiamo l'altro tema, l'ultimo, per l'ultimo concetto per questo video, che sono i buffers. I buffers sono super super importanti, e sono molto relazionati con le Windows e i frames. Perché i buffers sono i contenitori di contenuto. Ora questa è una, diciamo, una sequenza di parole non proprio piacevole, forse lo avrei potuto esprimere meglio, ma l'idea è che questi buffers sono i luoghi in cui lavoriamo sempre mentre utilizziamo Emacs. Ogni volta che stiamo utilizzando Emacs, stiamo dentro un particolare buffer, o più buffer contemporaneamente, e lavoriamo su un buffer alla volta. Le finestre e i frame, il frame lo possiamo considerare, il frame iniziale è un frame che è una finestra sola che è grande quanto il frame, cioè che è tutta l'interfaccia grafica, sono i modi per mostrare il contenuto di uno o più buffers. Alcuni buffer sono speciali, in quanto vengono creati e gestiti internamente da Emacs, sia internamente che interamente. Ora, tra questi troviamo il buffer messages e il buffer scratch. Qui c'è, diciamo, uno screening qui ho. Il buffer scratch è un buffer che viene inizializzato da Emacs all'inizio. Quando noi facciamo partire Emacs, lui crea automaticamente questo buffer e questo buffer è per giocare con del codice, per esempio. Se abbiamo del codice ELISP, tipo, se io voglio eseguire, ok, voglio eseguire 2 più 2, e scrivo più 2, 2, e poi faccio Evil Buffer. E lui, diciamo, ovviamente non mi dà nulla perché non l'ho stampato da nessuna parte, ma posso verificare il valore del codice. Per esempio, se questo era sbagliato, e faccio Evil Buffer, lui mi dice che c'è stato tipo un errore, end of file, during parsing, perché non gli è piaciuto come era scritto il codice. Quindi il buffer scratch lo possiamo utilizzare proprio con una specie di notepad in cui vogliamo scrivere delle cose, ma magari non le vogliamo salvare, ce lo vogliamo solo ricordare per un momento. Il buffer scratch lo crea Emacs all'inizio. Mentre il buffer messages è creato sempre da Emacs e viene utilizzato da Emacs per stampare tutte le informazioni di servizio che ci possono tornare utili riguardo a ciò che Emacs sta facendo internamente. Per esempio, in questo caso, lui appunto ci ha detto, qui in questa linea c'è scritto Ctrl X, Ctrl G is undefined, perché abbiamo provato a schiacciare quel keybind e lui ci ha detto guarda, non c'è nessun comando associato a questo keybind, quindi lascia stare. E come li riconosciamo, che i buffer sono speciali? Ora, come abbiamo detto, nella finestra c'è la modline e la modline contiene delle informazioni sul buffer, tra cui il buffer name. Bene, i buffer speciali, tipicamente, hanno un buffer name che inizia e finisce con un asterisco. Infatti, come possiamo vedere, sia messages, che questo, che scratch, che quest'altro, iniziano e finiscono con degli asterischi, proprio è una, non è nulla di fissato, è una convenzione che viene utilizzata per dire, se tu vedi un buffer con questi punti, diciamo, con questi asterischi, questo è un buffer special, quindi utilizzato per delle funzionalità particolari che esulano dal semplice text editing. Ad esempio, per quanto riguarda il client RSS e il feed, apre sempre un buffer con questi asterischi e questo in generale viene fatto molte volte. Ora, noi abbiamo già visto il comando ctrl x, ctrl f, per aprire il contenuto di un file all'interno di un nuovo buffer. Quindi che vuol dire? Vuol dire, supponiamo che noi abbiamo un file o vogliamo anche creare un file, perché ctrl x, ctrl f ci permette anche di creare un file. Qui, se io premo ctrl x, ctrl f, lui mi apre qui questo mini buffer in cui mi dice, ok, trovami il file e io dico prova.txt e lui mi sta aprendo questo file che adesso non esiste. Adesso io però scrivo hello, this is a test, hello, this is a test, io lo scrivo un po' di volte, poi lo salvo e chiudo emax, chiudo emax, salvo tutto, vabbè, sti cavoli. Dopodiché apre un terminale e ho salvato anche questo prova.txt, prova.txt e l'ho deciso a test e l'ho deciso a test. Quindi questo è proprio un file, è un file a tutti gli effetti, è un file ASCII. Ora, la prossima volta che io apro emax, lui che fa? Quindi bene, questo file è del sistema, questo è un file nel sistema operativo che ci offre, che possiamo accedere tramite, appunto, le chiamate al sistema operativo. Ora, quando io faccio ctrl x, ctrl f e metto il nome del file, lui sta caricando il contenuto di questo file dal disco in un buffer di emax. Io premo ok. Adesso, questo che vedo qui, non è, io non sto editando direttamente il file, ma sto editando il buffer, che è un modo indiretto per arrivare al file. Ora, che vuol dire questo? Vuol dire che, quando io comincio ad editare questo buffer, il file sottostante non è cambiato, io infatti lo sto editando, sto mettendo questa roba completamente inutile, se adesso vado a vedere il contenuto del file sottostante, questo è ancora quello di prima. Perché? Perché emax infatti qui mi dice, questi asterischi mi dicono, guarda, tu non hai ancora salvato il buffer nel file, cioè le modifiche che hai fatto, le hai fatte nella memoria interna di emax, nel buffer, ma non nel file. Se poi io voglio salvare queste modifiche, faccio ctrl x, ctrl s, faccio ctrl x, ctrl s, lui mi dice, ok l'ho scritto, e adesso, se vado a, diciamo, vedere il nuovo contenuto del file, ho il contenuto modificato, ma prima stavo lavorando nel buffer. Quindi questo è molto importante da capire che quando noi lavoriamo con dei file su emax, stiamo in realtà lavorando con dei buffer, e questi buffer devono essere salvati ripetutamente per andare ad aggiornare sempre il contenuto. E quindi con ctrl x, ctrl f, possiamo aprire il contenuto di un file all'interno di un nuovo buffer. Quindi questo ci apre un buffer associato ad un file, e il nome del buffer corrisponderà al nome del file, a meno di anonimi, perché che succede? Noi abbiamo aperto questo prova.dxt, che il prova.dxt è il nome del file, ma ci ha aperto un buffer chiamato esattamente prova.dxt. Il buffer name è uguale al file name. Ora però, che succede se per esempio io ho dir1 e dir2, e adesso faccio due cartelle, creo cartella1 e cartella2. Nella cartella1 creo un file con scritto l1 e lo creo nel file prova.dxt. Nella cartella2 creo un file con scritto l2 sempre chiamato prova.dxt. Cioè io ho lo stesso file name, quindi ho un file con lo stesso nome ma in due cartelle diverse. adesso io proverò ad aprire questi due file con imax. Quindi prima vado in dir1 prova.dxt e mi apre il file e il nome del buffer è uguale al nome del file. Ora che succede però? Adesso ho splittato la finestra con ctrl x2 faccio ctrl xo per andare nell'altra finestra faccio ctrl x ctrl f per andare a trovare il nuovo file adesso andrò in dir2 e aprirò nuovamente il file prova.dxt. Ora che succede? Ora notiamo i buffer name come sono cambiati adesso il buffer che prima era solamente prova.dxt è diventato prova.dxt poi ci sono questi minore uguali e maggiori uguali e dentro c'è dir1 quest'altro invece è prova.dxt e dentro a questi minore e maggiori c'è dir2 in altre parole dato che ad emax non bastava più il nome del file per rendere non ambigui i due buffer perché altrimenti se avesse solamente utilizzato il nome del file avrebbero avuto lo stesso buffer name ma questo non è possibile perché devo sempre discriminarli lui ha aggiunto le informazioni riguardanti la directory dato che la directory è diversa questo basta a discriminare i due file e quindi questo ovviamente questo è un esempio in cui ho test.dxt trattino leo e test.dxt trattino prova perché una volta il test.dxt si trova nella cartella leo e l'altra volta nella cartella prova ma questo è un piccolo esempio ora in generale noi adesso siamo in grado di creare buffer associate a file perché noi come facciamo a farlo ctrl x ctrl f apriamo un file e questo ci apre un buffer col contenuto del file che abbiamo scelto di aprire o che abbiamo scelto di creare quindi siamo in grado di creare tutti i buffer ma solamente buffer associate a file c'è però un altro keybind che è ctrl x b che chiama il comando switch to buffer ora tramite questo comando siamo in grado di fare due cose diverse come prima cosa siamo in grado di cambiare il buffer che viene mostrato nella finestra attiva su cui ci troviamo e come secondo diciamo comportamento possiamo creare un nuovo buffer senza però associarlo ad alcun file che vuol dire vuol dire io ho il mio imax adesso lo riapro adesso lo riapro adesso voglio aprire un file per esempio prova1.dxt dopo di che ho qua scrivo delle robe dopo di che voglio aprire un altro file prova2.dxt e scrivo altre robe adesso però voglio tornare indietro cioè voglio non voglio spettare le finestre voglio semplicemente dire ok nella finestra attuale che copre tutto il frame voglio mettere il contenuto del buffer di prima cioè del buffer prova1 e che cosa faccio premo ctrl x b io quindi faccio ctrl x b lui mi chiede switch to buffer su quale buffer vuoi cambiare e io scrivo prova1.dxt lui adesso che ha fatto mi ha cambiato il contenuto del buffer mostrato nella finestra e adesso non è più il buffer prova2.dxt ma è diventato prova1.dxt cioè in altre parole io ho cambiato il buffer che mostro il buffer su cui sto lavorando ho cambiato il buffer su cui è aperta la finestra attiva e quindi questo è un possibile utilizzo di ctrl x b un altro possibile utilizzo invece è quello di creare un nuovo buffer senza associarla ad alcun file come faccio? simile a prima faccio ctrl x b lui mi chiede switch to buffer ora però io gli do un nuovo nome un nome che non è associato a nessun file per esempio prova senza file premo ok e lui mi ha aperto un buffer chiamato prova senza file ed è un buffer che non è associato ad alcun file io qui posso scrivere ma non c'è nessun file nel mio sistema che è associato in particolare a questo file solamente quando io vado a salvare il buffer lui crea un file ma finché non faccio questo salvataggio è come se avesse un buffer in memoria e infatti i buffer scratch e i buffer messages non sono associati a nessun file di default lo devo dire io ok associamo ad un file e quindi diciamo non solo i buffer possono essere associati ai file ma possono anche avere buffer più generali che non sono associati a nessun tipo di file e quindi questo per quanto riguarda i buffer file associati oppure no invece parliamo invece della buffer list allora come abbiamo già visto noi possiamo cambiare tra un buffer all'altro e quindi questo che vuol dire vuol dire che mentre noi utilizziamo i max tipicamente vediamo solamente pochi buffer alla volta tipo in questo caso stiamo vedendo solamente il buffer scratch ma tutti gli altri buffer non li stiamo vedendo questo però non vuol dire che non sono attivi in questo momento sono caricati nella memoria di i max ma semplicemente non siamo in grado di vederli sono invisibili quindi come facciamo a vedere tutti e soli i buffer attivi bene ci sono tre modi diversi uno è tramite la buffer list poi possiamo utilizzare il buffers menu e poi il buffers pop up menu io tipicamente utilizzo solo la prima quindi andiamo a vedere tutti e tre i metodi per accedere alla buffer list possiamo utilizzare il keybind ctrl x ctrl b o equivalentemente il comando list buffers quindi io sto qui nel mio buffer a questo punto voglio dire ok ma quali sono tutti i buffer attivi a questo punto io faccio ctrl x ctrl b ctrl x ctrl b e lui mi dira mi apre fuori questo buffer che si chiama buffer list e contiene tutti i buffer uno dopo l'altro con varie informazioni tra cui il nome del buffer il size cioè quanto grande è il buffer la modalità con cui stavo utilizzando quel buffer e il file ma non su tutti come possiamo vedere solamente su quelli su cui un file è associato cioè i buffer a cui è associato un file per esempio come ho detto in prova 1 è associato un file in prova 2 è associato un file e qua c'è il path name che sarebbe home prova 1 home prova 2 ma per esempio a prova senza file non è associato nessun file però se io adesso lo salvo con ctrl x ctrl s lui mi chiede dove lo vuoi salvare e qui e mi dice provare il file quindi io dico ok lo salvo e lo ho qui su home e lui mi ha salvato su home prova senza file adesso se io faccio ctrl x ctrl b mi da la buffer list adesso anche prova senza file è associato a un file che è proprio esattamente come il nome del buffer quindi questa buffer list la trovo molto utile trovo il comando ctrl x ctrl b molto utile quindi ctrl x ok ho chiuso i max per sbaglio quindi ctrl x ctrl b e apre tutti i buffer aperti in questo momento invece il buffer menu fa parte della gui di i max io per esempio la toolbar l'ho eliminata perché non mi piace perché posso fare tutto con i keybinds però se uno vuole utilizzare la toolbar che cosa fa semplicemente qui in buffers c'è sempre la lista di tutti i buffer quindi è come se fosse questa lista sempre in modo grafico quindi questo è il secondo come i terzi modi invece abbiamo il buffer pop up medio che lo possiamo utilizzare sempre dalla gui stiamo all'interno di un buffer premiamo ctrl premiamo il tasto sinistro del mouse e lui ci apre il buffer list e poi noi possiamo cliccare per esempio vami in messages oppure vami in scratch oppure vami in gnuimax e questo può essere abbastanza comodo in realtà e quindi questo è per quanto riguarda la buffer list ora quando noi abbiamo stiamo lavorando sulla buffer list abbiamo una serie di keybinds che possiamo utilizzare tra questi sono per esempio 1, f, o, d, k, ecc che vuol dire vuol dire che come si utilizzano questi keybinds l'idea è che quando siamo in una buffer list noi possiamo muovere il cursore come al solito con i soliti keybinds di emax che sono ctrl p ctrl n ctrl f ctrl b oppure le freccette oppure quello che ci pare oppure il mouse che clicchiamo ora per esempio se io voglio aprire il buffer scratch o clicco su scratch oppure mi porto nella riga relativa a scratch e premo 1 ho premuto 1 e lui mi ha aperto questo 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 buffer se invece voglio aprire il buffer messages vado su messages e premo 1 e lui mi apre il buffer messages se invece most voglio diciamo aprire un buffer in un'altra finestra posso fare o e quindi lui mi apre il buffer su un'altra finestra oppure posso dire ok io voglio eliminare questo buffer e faccio D ora quando io faccio D lo sto marcando per l'eliminazione mark per deletion quindi io magari mi marco più buffer tutti quanti forse tutti no perché uno deve essere sempre attivo io mi marco più buffer e poi dico ok una volta che sono pronto posso fare X posso premere X per dire ok eseguimi il comando che io ho marcato su quel buffer eseguimelo e dato che io ho marcato i comandi delete quando io premo X lui mi elimina e quindi adesso solamente il buffer gnuimax che è l'introduzione all'emax quindi questo è utile quando abbiamo più file aperti e vogliamo eliminarli velocemente o chiudiamo emax e lo riapriamo oppure se per qualche ragione lo dobbiamo lasciare aperto possiamo per esempio apro test1.txt poi apro test2.txt dopodiché faccio ctrl x ctrl b adesso ho questi due file aperti e poi dico ok dd per eliminare x e me ne elimina tutti e quindi diciamo sono questi equipines poi ci sono per esempio quello che salva il buffer u per dire unmark cioè se io ho marcato qualcosa per esempio per la deletion però in realtà poi dico no in realtà questo non lo voglio eliminare ritorno nella riga di prima e premo u e quindi questo mi toglie il mark che avevo inserito oppure q per dire quit toglimi dalla buffer list e quindi questo è diciamo i comandi per gestire la buffer list infine oltre alla buffer list possiamo utilizzare altri equipines per gestire il buffer e quindi questi sono ctrl x b che abbiamo switch to buffer che abbiamo già menzionato ctrl x ctrl b che ci apre la buffer list e poi abbiamo secondo me due principalmente molto importanti e poi uno in realtà secondario che abbiamo ctrl x k per kill buffer quindi questo ci permette di eliminare un particolare buffer io adesso apro il buffer test1.txt e faccio le mie cose poi salvo e poi dico ok questo buffer non mi serve più come faccio? faccio ctrl x k lui mi dice kill buffer e poi mi dice quale buffer vuoi eliminare? e dato che io voglio eliminare il buffer su cui mi trovo in questo momento basta che premo invio se invece volevo eliminare un altro buffer dovevo scrivere qui per esempio messages e lui mi elimina il buffer messages e quindi adesso non ho più il buffer messages e quindi questo è per quanto riguarda la kill buffer un'altra cosa molto molto utile è la seguente ora supponiamo che noi stiamo editando un file super importante a un certo punto noi vogliamo essere sicuri che non lo modifichiamo che non modifichiamo il contenuto del file e quindi vogliamo avere una modalità detta read only proprio perché non la possiamo modificare come facciamo a rendere un buffer read only? con questo ki binds ctrl x ctrl q quindi io faccio ctrl x ctrl q e lui nel mini buffer c'è scritto read only mode enabled in current buffer qui vedo due percentuali due simboli percentuali quindi questo che vuol dire vuol dire che da adesso in poi se io premo i comandi come sto facendo lui mi dice guarda il buffer è read only tu non lo puoi modificare quindi cioè che cosa stai facendo smetti se poi voglio togliere la read mode per avere nuovamente una write read mode semplicemente ripeto ctrl x ctrl q quindi ctrl x ctrl q e dico read mode disabled quindi con ctrl x ctrl q la faccio enable e con ctrl x ctrl q la disable e quindi questo è per quanto riguarda la read only mode è super super importante e infine altri ki bind ma questi secondo me sono veramente poco utili sono ctrl x s e kill zone buffer ora save zone buffer e kill zone buffer questi semplicemente che fanno iterano su tutti i buffer aperti e ti chiedono ma tu lo vuoi salvare questo buffer ma tu lo vuoi salvare questo buffer finché non hai deciso per ogni buffer aperto se tu lo vuoi salvare oppure no e questo è save zone buffer kill zone buffer essenzialmente ti dice ma vuoi uccidere questo buffer vuoi uccidere quest'altro buffer finché lui non ha scansionato essenzialmente tutta la buffer list tipo se io faccio kill zone buffer lui mi chiede ok buffer.text is unmodified kill e tu dici si e poi fai buffer buffer list is unmodified kill e poi tu dici si e poi fai quindi lui ti chiede se tu vuoi uccidere tutti alla fine poi ovviamente non li puoi proprio uccidere tutti quindi diciamo queste due sono veramente superflui non le imparerei e quindi questo più o meno conclude il materiale per questo video quindi per fare proprio un recap veloce abbiamo visto che i frames sono questi ambienti sono le finestre grafiche di imax abbiamo visto che un frame può essere diviso in più finestre che ciascuna finestra ha varie informazioni e che possiamo aprire per esempio lo stesso buffer su finestre diverse per avere visioni diverse dello stesso file abbiamo visto che in ogni momento c'è una sola finestra attiva abbiamo visto i comandi per gestire queste finestre tra cui i più importanti sono ctrl x2 ctrl x3 ctrl xo ctrl x0 e ctrl x1 questi altri sono più extra dopodiché abbiamo parlato dei buffers abbiamo visto che ogni finestra carica un buffer ci sono dei buffer speciali che sono buffer gestiti da imax quindi che noi non dobbiamo scriverci ma dobbiamo solo leggere in caso oppure il buffer scratch che è una specie di notepad momentaneo in cui possiamo scrivere delle idee che poi magari non vogliamo salvare abbiamo visto che molti buffer sono associati a dei file ma non tutti i buffer sono associati a dei file e quindi con ctrl xv possiamo creare un buffer che non è associato a nessun file poi abbiamo parlato della buffer list come poterla utilizzare i vari keybinds quindi per utilizzarla i vari keybinds per entrare nella buffer list abbiamo visto i keybinds per gestire i buffer in generale i più importanti sono ctrl xb switch to buffer cioè cambia buffer ctrl x ctrl b list buffer dammi la lista dei buffer ctrl x k kill buffer uccidimi il buffer e ctrl x ctrl q per entrare in raid only mode e poi questi altri sono extra quindi spero che il video sia stato esaustivo e interessante e quindi questo secondo me è molto molto importante sapere tutte queste cose per avere una conoscenza base di IMAX